Ben trovati le alti G della mobilità, trasporti per gli studenti, domani tornano le linee S, collegamenti express attivi al mattino e al pomeriggio dalla periferia al centro. Le 14 linee partono dai principali capoline di Cotral, da alcune stazioni delle ferrovie regionali, dei nodi di scambio delle metropolitane convergono nell'area della stazione Termini, fa eccezione la S4 che collega la stazione Parco di Centocelle della Metro C con San Giovanni. Le linee S sono in funzione dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19 il sabato, solo la mattina dalle 7 alle 10. A bordo si può viaggiare con biglietti e abbonamenti Metrebus Roma o Lazio, validi nella zona tariffaria A. Intanto, secondo il dato di ATA, che con la riapertura delle scuole dallo scorso lunedì è raddoppiata la domanda di trasporto su tutta la rete, in particolare nelle ore di punta. È tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.